Jack! L'abbiamo preso! Riesci a crederci? Denov! Cosa hai fatto? Così lo ucciderai! Non preoccuparti, En. Sopravviverà. Il mondo intero pagherà per vederlo. In pochi mesi, il suo nome sarà su tutti i manifesti di Broadway. Kong! L'ottava meraviglia del mondo! L'ottava meraviglia del mondo! Stasera, signore e signori, potrete ammirare la cosa più incredibile che abbiate mai visto. Lui era il re del suo mondo, ma adesso potrete ammirarlo anche in cattività. Signore e signori, ecco voi Kong! L'ottava meraviglia del mondo! L'ottava meraviglia del mondo! Già, giù lo moi è! Aiutatevi! Aiutatemi! Ecco là! Di qua! Ecco là! Ecco là! Di qua! Guardiamo! Guardiamo! Forza! Tanti! Attenzione cittadini! Restare a l'interno! Guardiamo! Allarme rosso! Attenzione! Guardiamo! La squadra è iniziata! Destruggerà ogni cosa! L'ho visto! Guardiamo! 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 I آپist! Vi servono l'intorzione! Emanuare l'intero quartiere! Dobbiamo fermarlo! D藮- Indietro! Distruggerà tutto quello che incontra! Si dirige verso l'Empire state building! Blochiamogli la strada! Arcnotesolo! topserv�ar! Spagliatemi! Ammattaggiala! Di qua! Si dirige verso l'Empire State Building. Blochiamogli la strada! Eccolo là! Capito! A tutte le unità! Uccidetelo! Non ha speranze! Abbattetelo! No! Kong! Non sparate! Non pensiero! Viülsere! Ah... Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.